Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Binetto, Giuseppe Delzotto, dopo le accuse del gruppo consigliare Unione dei Democratici per Binetto. In una nota della scorsa settimana il gruppo aveva sollevato questioni di sicurezza pubblica a causa del buio in molte zone della città, dovuto alla rimozione dei pali dell'illuminazione con alcuni furti messi a segno in alcune abitazioni in periferia. Si tratta in effetti di un lavoro di messa in sicurezza di tutto l'impianto illuminotecnico del paese, ci si è resi conto, l'azienda che fa la manutenzione si è resa conto che purtroppo ci sono dei pali corrosi alle radici che bisogna in qualche modo mettere in sicurezza. Per il resto stiamo procedendo, li abbiamo praticamente divelti e a presto saranno riposizionati. Il sindaco di Binetto, Giuseppe Delzotto, ha poi risposto alle accuse dell'opposizione che aveva scritto alludendo a favoritismi che proprio davanti all'abitazione del primo cittadino e non anche in altre zone era stato posizionato un faro provvisorio in sostituzione del palo rimosso. In tutte le posizioni dove sono stati tolti questi pali sono stati posizionati dei fari, di fatto anche davanti a casa mia sono stati tolti due pali dell'illuminazione, questo è vero, hanno provveduto probabilmente come è già avvenuto anche in altre zone del paese nel posizionamento di questi fari e che comunque procederemo a breve nella sistemazione delle zone più buie.